La Taffa Villa del Buntino, c'è anche la Corte Castorti. Non ho trovato documentazione relativamente a questo edificio, che da fuori sembra abbastanza banale, ma poi in realtà all'interno, non posso mostrerlo per ragione di privacy, ma è un bellissimo colonnato architravato. Chiunque avesse delle informazioni in merito, purtroppo non le ho trovate neanche sul sito dell'Opericultura della Lombardia, è pregato di farle avere.